Stava pensando Allegri soprattutto l'occasione di attraverso di Borucci di cui poteva girare la stagione, ciò che poteva dare una bella boccata d'ossigeno alla Juventus O va a raccogliere, pallone è buono, Alessandro, cross a basso, Quadrado! All'ultimo respiro! Juan Quadrado! Minuto e 94, esplode lo stadium! La Juve rimette la freccia! La Juve rimette la freccia La Juve rimette la freccia! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.